Quarto capitolo. Selene. Niente da fare. Sono mesi che questa ricerca del cazzo non dà risultati. Secondo il mio cellulare, passo circa nove ore al giorno su Instagram e cinque su Facebook. Ben quattordici ore della mia giornata e della mia nottata vengono buttate alla ricerca di qualcosa che tanto non troverò mai. Lancio il telefono con rabbia. Si schianta direttamente al suolo. Merda. Premo il pulsante di accensione. Lo schermo si illumina. Però è squarciato, cazzo. Crepa sul vetro. Colpa mia. Solo colpa mia. Affanculo, Selene. Mi butto sul letto, portandomi le mani davanti agli occhi. Mi sembra di buttare tempo. Eppure non so in quale altro modo potrei arrivare a una soluzione. Sposto le dita, in modo da formare un minuscolo spiraglio attraverso il quale gettare uno sguardo ai disegni sulla scrivania. Quel volto. Deve per forza voler dire qualcosa. Non posso disegnare la stessa fottuta faccia da quando avevo sei anni senza che voglia dire nulla. Perché quella stronza di mia madre non risponde alle mie domande? Dovrei andare in analisi. O farmi ipnotizzare. Idee del cazzo. È lei la chiave. Lo è sempre stata. Lei sa chi è quell'uomo. Lo so che è mio padre. Non sono stupida. Cosa cazzo le costa dirmi il suo nome e basta? Con le unghie mi accarezzo le braccia con un po' troppa forza, lasciando dei lunghi segni rossi sulla pelle. Cerco di mandare giù il nodo che mi sia formato in gola. Non voglio ricominciare a piangere. Ho finito le lacrime. Non so nemmeno perché lo sto cercando. Cosa potrei dirgli? Perché te ne sei andato? No. Non mi interessa la sua schifosa compassione. Voglio solo dare vita a un volto che mi perseguita. Forse, se lo conoscessi, smetterei di disegnarlo. Mi piacerebbe poter disegnare un volto diverso ogni tanto. Una lacrima riesce a liberarsi. Cavolo. Mi ha colto di sorpresa. Ero distratta. Ma è l'ultima volta. Mi giro verso la finestra. Un passerotto è poggiato sui rami di un albero del nostro giardino. Il mio albero preferito. Sembra che mi stia fissando. Inclina la testa, in quel modo di fare curioso che hanno gli uccellini. Ricambio, piegando la mia volta. Lui mi studia, poi cinguetta e vola via. Lo seguo con gli occhi, ma è già sparito. Stupido passerotto. Riprendo il cellulare e apro Instagram. È l'unico modo che ho per cercarlo. Non so nemmeno se ha un profilo social. Ma non posso fare altro che scavare ogni giorno tra migliaia e migliaia di sconosciuti, cercando un volto che gli somigli anche solo un po'. È cominciato tutto qualche anno fa. Mentre cercavo qualcuno che potesse assomigliargli tra gli amici di mia madre. Ovviamente nulla. Non è così stupida. Allora ho iniziato a cercare tra gli amici degli amici. E gli amici degli amici degli amici. E ora credo di conoscere circa metà della popolazione mondiale. Ma di lui neanche l'ombra. Ogni tanto ho trovato qualcuno che me lo ricordava. Ma niente di così è eclatante da poter cantare vittoria. Ambivo a trovare qualcuno che avesse i suoi stessi occhi di ghiaccio, magari. O le sue stesse labbra. Zero assoluto. Sono stufa di cercare. Sono le diciotto e tra poco dovrò essere al lavoro. Apro i messaggi. Ne trovo uno di indicate. Ehi, ci vediamo stasera? Passo dopo il lavoro. Fisso il messaggio. Prima di rispondere apro le sue stories su Instagram. Foto in università. Lei a casa che fa maratone di Netflix. E subito dopo un selfie con la sua ragazza. Soghigno, scuotando la testa. Ma tu guarda sta stronza. Penso mentre metto via il cellulare. Forse le rispondo dopo. Forse no. Ora voglio solo farmi una doccia. Per sempre. L'acqua mi manda a fuoco. Scorre giù per la schiena. Pelle d'oca sull'osso sacro. Alzo la testa e chiudo gli occhi. Lascio che mi entri in bocca. E precipiti tra i miei seni. I capezzoli si increspano. Sono onde arrabbiate. I capelli appiccicati alla spina dorsale. Quel brivido dannato che ti investi appena ti butti sotto. Ci impieghi un istante ad abituarti. Ma quell'attimo è spilli. Prurito e fiato corto. Lo detesto e lo amo. È un male bello. Mi appoggio alle piastrelle fredde. Scivolo giù. Verso lo scarico. Mi faccio piccola e liquida. Mezza gelata e mezza bollente. È così che voglio stare. In eterno. Sono qui da un pezzo ormai. I piedi ragrinziti. Il getto d'acqua sulla nuca. Una tenda a fradicia di ciocche rosse che mi sbarra la visuale. Ginocchia al petto. Ci appoggio la testa. Le cosce schiacciano il seno ma non mi importa. Ascolto l'acqua cantare per me. Per me soltanto. Non sento nemmeno più il battito del mio cuore. Respiro. Finalmente anche questo turno del cazzo è finito. Oggi non c'era nessuno in questo buco di ristorante. Dovrei esserne felice. Vuol dire soldi senza lavorare. invece mi sono solo annoiata a morte. Il capo non vuole chiusi il cellulare se sono al lavoro. Che bastardo. Accendo una sigaretta mentre esco dal locale. Ormai tutte le luci sono spente. È tardi. Milano è vuota. Meglio così. Mi piace di più. Mi stai evitando? Oh cazzo. Chiudo gli occhi per un istante. Quella voce. Non posso crederci. Che ci fai qui? Rispondo infastidita. Caterina è lì. Seduta sul muretto del naviglio. Mi fissa. La testa piegata da un lato. È sempre stata lì. Porca puttana. Come sei scontrosa? Non mi hai risposto. Sono venuta a controllare che stessi bene. Sai che mi preoccupo. Esordisce con la sua voce melliflua. La sua fastidiosa, irritante, sexy voce melliflua. Vale lo sa? Sbuffa, saltando giù dal muretto. Lascia stare Vale. Non sono affari tuoi, Lene. È questo il problema? Faccio spallucce, fingendo che non mi importi. Certo che è questo il problema, idiota. Non mi andava di uscire stasera. Giornata no. Svio il discorso. Ma so benissimo che con lei non attacca. Per te sono tutte giornate no. Se dovessimo seguire questa filosofia, non ci saremmo mai nemmeno conosciute. Merda. Devo essere impresentabile. Puzzo sicuramente di fritto. Avrò i capelli unti. Quel maledetto ristorante. Ma perché il capocuoco deve friggere anche sua mamma? Possibile che alla gente piaccia la sua cucina di merda. Se non hai voglia, basta dirlo. Vado. No. La interrompo, rendendomi conto solo dopo di essere stata troppo brusca. Tossisco, schiarandomi la voce. Mi va un drink? Stacco un po'. Andiamo. E senza aspettare la sua risposta, comincio a camminare verso il naviglio grande. Lei è dietro di me. Non riesco a vederla, ma percepisco perfettamente i suoi occhi tra le mie scapole. Sono le tre del mattino. Siamo arrivate al quarto drink. Io non lo reggo l'alcol, cazzo. Perché mi sono lasciata convincere? E quindi siamo finite a letto, ma eravamo così fuori che ci siamo addormentate prima di cominciare. Cathy mi racconta delle sue conquiste, ridendo come una matta. Trido anch'io. Ma non so perché. Le risate irrompono come singhiozzi. Siamo in mezzo a un sale rumoroso e affollato. Lei nemmeno le sente. E mi risate. E tu che mi dici, Lene? Hai rimorchiato? Di recente? Sussurra. Si avvicina lentamente al mio orecchio, pronunciando queste parole. No, Kate, no. Non rispondo di me, non è giusto. Io non sono così. Sono riservata, Kate. Non mi piace vantarmi, come fai tu. Sfrutto l'occasione per allontanarmi un po'. Perché questo divanetto è diventato improvvisamente così piccolo. Lei ride, gettando la testa all'indietro. Fisso il suo collo. I muscoli si tendono, accompagnando la sua risata. Quanto vorrei. No, Selene. È fidanzata. Tu sei meglio di così. Tu sei meglio di lei. Si interrompe bruscamente, tornando a guardarmi. Vado a fuoco. Forse è solo l'alcol. Sicuramente è solo quello. Fa così caldo. Gira tutto. Voglio sdraiarmi. Si sta avvicinando. No, no. Devo andarmene. Non riesco ad alzarmi. La musica è troppo forte. Che mal di testa. Kate, sei troppo vicina. Ferma. Perché non mi sente? Non sto parlando. Non riesco a parlare. E bacia. Le sue labbra sulle mie. Ha vinto lei.